L'Urodo me fa se sembra fusi lacrima, tu senza me guardarci in da macchina, ti volessi pure accompagnare, ma è troppo tardi non lo può fare, ti faccio accompagnare per il telefono. E sono arrivato a casa, salutami già, non volessi fare, ti giuro che c'è, ma non c'è freddo un po' cancellare, che l'abbiamo fatta un'ora fa, e con la mia carezza tui si addormentano. Ragazzi buongiorno, oggi a Casa Caldore si mangia pasta e patate, buon appetito a tutti! Grazie a tutti!